Un libro che certamente ha il merito di aver fatto luce su un periodo della storia cubana sconosciuta in più e di aver fatto conoscere la figura del napoletano Oreste Ferrara, l'italiano che da Colombo ad oggi è inciso maggiormente sulla vita pubblica cubana quando, partito alla volta della bella terra caraibica nel 1896 animato da un forte spirito garibaldino, fu uno dei protagonisti della guerra di liberazione dal dominio spagnolo. A raccontare la sua storia nel libro L'anarchico elegante è l'avvocato Alessandro Senatore che come il protagonista del libro è nato a Napoli ma 83 anni dopo. Un romanzo storico, il suo presentato presso la sala Bernard del Palazzo della Marra Barletta nell'ambito di un'iniziativa promossa dalla sezione di archivio di stato di Barletta responsabile Michele Grimaldi e dall'Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana Unimri, sezione tenente colonnello pilota Domenico Senatore e di Barletta, nella persona del suo presidente, l'ufficiale Vito di Pitonto. A dialogare con l'autore è la giornalista Floriana Tolbe. Tra i meriti di questo romanzo vi è quello di aver acceso i riflettori su un periodo particolarmente delicato di quella terra che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Quaranta del secolo scorso, soffermandosi sui pericolosi e intriganti giochi di potere che rendono il romanzo ancora più affascinante e da vincente. La scelta di presentare la sua opera nella città di Barletta nasce dal fatto che l'avvocato napoletano ha radicato i origini barlettane in quanto il papà e il medico pediatra. Guido Senatore è nato a Barletta il 1920 e trasferitosi poi all'età di 20 anni a Napoli, dove tuttora risiede. La narra della storia di un avvocato napoletano che fu l'italiano più importante nella storia di Cuba, dopo Cristoforo Colombo, è un uomo eccezionale che fu ministro degli esseri a Cuba, grande ambasciatore, fu banchiere, fu imprenditore, fondò la Banca d'America d'Italia, la compagnia telefonica ITT, fu presidente della Camera. Un grande italiano la cui storia è rimasta sconosciuta in Italia ed è un italiano che poi per una serie di vicissitudini è stato odiato a Cuba. Per comprendere l'altissima considerazione nella quale viene tenuto l'autore del libro, basta ricordare che nel 2018 l'avvocato Alessandro Senatore ha ricevuto il più importante riconoscimento culturale cubano e, ad assegnargli, lo è stato Eusebio Leal, figura più rappresentativa della cultura cubana. Un libro, l'anarchico elegante, che è già tradotto in spagnolo e pronto ora ad un'altra grande novità. La novità è che questo libro, in un primo momento considerato un po' fuori le linee della politica cubana, è stato rivalutato, è stato tradotto in spagnolo e sicuramente verrà nel prossimo autunno edito da una grande cassa editoriale cubana.